Qui scavalchiamo solo col destro e si torna a posto, laggiù, tre, fatto bene, apertura col piede sinistro, raccolgo, faccio tre, mi alzo e torno indietro. Pronti? Via! Allora, sulla prima stazione che abbiamo qua i ragazzini stanno lavorando sullo scavalcamento di un ostacolo, che è un lavoro che abbiamo iniziato prima a fare sulle righe a terra, adesso lo facciamo con un ostacolo che li porta a dover sollevare i piedini, stanno lavorando sempre col piede destro. Qui stiamo facendo la stessa cosa e stiamo però lavorando solo dal punto di vista laterale, laggiù invece stiamo lavorando sempre sulla lateralizzazione ma su un affondo e su un'apertura a destra e a sinistra. Abigay sveglia, sono già le 10.05, scavalchiamo solo col piede destro. Non sono facili come classica queste, questa è la più impegnativa. Con questi tre esercizi andiamo a prendere il lavoro che abbiamo fatto prima con i bambini che lavoravano da fermi e andiamo a legare due movimenti. Sulla prima stazione che è lo spostamento avanti e lo scavalcamento dell'elastico con lo spostamento laterale, quindi andiamo a legare due lavori sulla lateralizzazione. Sul secondo andiamo a fare una cosa analoga ma con uno scavalcamento laterale e sul terzo andiamo a lavorare sullo scavalcamento del filo per la distensione della gamba avanti che è quello un pochettino più problematico per i ragazzini perché questo filo comunque li mette un pochettino in difficoltà. Distendere bene la gamba e fare lentamente, non dietro, davanti, scavalco davanti, scavalco l'altra, gamba tesa. Scavalcamento Sara davanti, non dietro, davanti. Grazie a tutti.